Oggi vi volevo spiegare come funzionano i tag di Teams, che è una funzionalità molto molto utile per avere una comunicazione migliore all'interno di un gruppo di collaborazione. Vediamo un po' come funzionano spostandoci all'interno del mio Teams. Fondamentalmente quando collaboro all'interno di un gruppo o di un canale ho la possibilità di condividere messaggi e avvisare i miei colleghi tramite le menzioni, questo lo sapete. Quindi se scrivo ciao chiocciola nome del canale o comunque nome del gruppo io mando una notifica a tutti i membri di questo gruppo oppure ciao chiocciola nome del canale eccolo qua anche in questo caso mando esattamente una notifica alle persone che sono dentro il canale. Chiaramente se ho un canale pubblico sto mandando una notifica a tutti i membri del mio gruppo, quindi equivale a taggare il nome del gruppo, se invece ho un canale privato sto taggando solo le persone di quel canale. Ovviamente quando ci sono dei gruppi con tante persone non è detto che io voglia creare rumore a tutti i membri del gruppo, magari io voglio mandare dei messaggi solo a specifiche persone e quindi ogni volta che cosa devo fare? Devo taggare una persona, poi taggare l'altra e così via che è un po' noioso soprattutto se ho magari un sottostream di progetto quando magari creo un nuovo canale. Io non sempre voglio notificare tutti i membri del gruppo e per questo ci vengono in aiuto appunto i tag. Per gestire i tag si fa clic sui tre puntini del gruppo, si sceglie manage tags, si arriva nel tab tags che poi è presente all'interno dei settings del nostro gruppo in cui io vedo tutti i tag che sono già stati creati in precedenza e posso crearne di nuovi chiaramente. Se scelgo di creare un nuovo gruppo, è un nuovo tag, posso scegliere il nome del tag, team di marketing, in questo caso lo chiamo. Posso metterci una descrizione ma soprattutto posso metterci le persone, in questo caso io ci metto il mio utente amministratore 1 e il 3 e non il 2. Posso scegliere di lasciare abilitata poi questo flag che mi permette di avvisare a tutti che c'è anche questo tag da utilizzare quando scrivete i vostri post e quindi volete utilizzare le menzioni per notificare le persone. Questo è opzionale, se lo lascio abilitato posso anche scegliere qual è il messaggio che voglio inviare alle persone. Questo serve per far capire come menzionare il tag all'interno dei nostri post, non lo faccio perché adesso non mi serve. Ecco qua quindi la pagina con i tag che sono stati creati, ho anche la possibilità di vedere i tag che sono assegnati a me e soprattutto i tag che sono stati cancellati e questa ce l'ho chiaramente come amministratore del gruppo. Se ritorno all'interno dell'area di conversazione e continuo la modifica del mio graph, in questo caso posso fare chiocciola, vedi appare il team di marketing che è il mio tag e che mi sta dicendo guarda che se menzioni questo tag, lo rivediamo, verranno menzionate esattamente due persone. C'è scritto qua, ok? In questo modo sto inviando un messaggio con la relativa notifica senza avvisare tutti quanti, tutti i membri del gruppo, quindi senza creare rumore. È una buona pratica che fa parte tra l'altro della netiquette di Teams che noi consigliamo a tutti i nostri clienti. Bene, spero che vi sia stato utile. A presto! Grazie a tutti!